Complessivamente sono oltre 49.200 le persone controllate dalle volanti della questura in questo 2020, 6 persone arrestate e 375 denunciate, 30 sequestri di stupefacenti di varia natura, 14.743 veicoli controllati, 253 inflazioni al codice della strada e 1.050 altre violazioni amministrative contestate. Vi sono poi misure di prevenzione da parte della divisione anticrimine che vede 57 provvedimenti di divieto di ritorno nei vari comuni del territorio cremonese e 13 provvedimenti di ammonimento. Purtroppo la pandemia non ha risparmiato i poliziotti e le loro famiglie pur garantendo tutti i servizi sanitari e assistenziali. Per la serata del 31 dicembre il vicario del questore, Corrado Mattana, ha fiducia nei confronti dei cittadini nel rispetto delle restrizioni in vigore. È stato un anno legato a una gravissima emergenza sanitaria, un'emergenza sanitaria che ha determinato situazioni di gravissima contingenza, situazioni luttuose, situazioni di sofferenza, situazioni di distacco prematuro, situazioni veramente in cui il bene primario da tutelare è diventato anche nella nostra azione istituzionale il bene più importante, più prezioso, la vita umana. Questo ci ha indotto e ci ha costretto a rimodulare completamente la nostra attività. Abbiamo avuto notevoli incrementi dal punto di vista dei controlli di persone e di autovetture, sia sull'ambito, sulla porzione di Cremona, sia sulla porzione di Crema. Abbiamo lavorato in quest'anno dividendo la provincia sostanzialmente in tre macro aree, quindi l'area di Casal Maggiore, l'area di Cremona e l'area di Crema, le quali non hanno evidenziato sostanziali differenze. È un giorno in qualche modo legato a un'idea di trasgressione, quindi avremo un'attenzione massima. Credo che sia opportuno fare appello al senso di responsabilità. Ripeto, ciò che stiamo giocando fondamentalmente è un ruolo di salvaguardia e di tutela di un bene che fra tutti i beni costituzionalmente garantiti è quello che assorge al massimo livello di protezione, che è la vita umana.